Parlare di letteratura apocalittica vetro-testamentaria, abbiamo già visto la volta scorsa, non è qualcosa di elementare, di semplice. Anche questa mattina noi affronteremo due testi che sono solo due piccoli frammenti di pericopi molto più grandi. Per quanto riguarda la fatica che faremo questa mattina, noi ci collochiamo come testi importanti, come testi base, più o meno tra il VI secolo a.C. e la fine del V secolo avanti Cristo. Ezechiele è un giovane prete che viene portato in esilio nel 586. È sposato, gli uccidono la moglie forse per stenti, forse per maltrattamenti. La donna muore sulle rive del torrente Kebar, in Babilonia, o del canale Kebar, ed Ezechiele nella sua opera risente di questo trauma. si trova in una situazione, però, di dover soprassedere al proprio dolore per annunciare ai suoi correligionari schiavi in Babilonia, un futuro positivo, un futuro di ritorno. Quindi, pur con la morte nel cuore, deve compiere questa specie di opera di ottimismo. Abbiamo perciò, nell'opera di Ezechiele, una prima parte, dove sono raccolte le cosiddette profezie contro i popoli, contro le nazioni, contro ovviamente anche Israele per i peccati che ha fatto. Ci sono altri elementi, nella prima parte del libro, di Ezechiele, che parlano della storia, invece, positiva tra Dio e il suo popolo, con tutto il bene che Dio ha fatto, e ci sono anche altri elementi ricchi di speranza. Nella seconda parte del libro, invece, si parla solo di come verrà ricostruita Gerusalemme, di come verrà ricostruito il Tempio. Voi immaginatevi, per gente che pensava che la propria storia fosse finita, che il popolo si sarebbe sbriciolato, sfarinato, durante l'esperienza dell'esilio, sentirsi dire da un profeta no, guardate che ci sarà un ritorno, guardate che ricostruiremo il Tempio, ricostruiremo la città, dava a questa gente un fondamento di speranza molto solido. Non si trattava dunque di una liberazione puramente fantastica, ma addirittura di una liberazione dove c'era il progetto della ricostruzione. Nel III secolo, circa, quindi tre secoli dopo il libro di Ezechiele, uno scrittore anonimo infila dentro, in quest'ultima parte del libro, cioè nella parte ottimistica, infila dentro i capitoli 38 e 39, che non sono di Ezechiele, si vede con chiarezza, perché sia la poesia, sia la narrativa di questi due capitoli sono fatti in un ebraico accademico, non in un ebraico parlato. Ezechiele si vede chiaramente che parlava ebraico, lo domina in maniera perfetta. Chi invece scrive questi due capitoli si vede che non è la sua lingua, l'ebraico che sta scrivendo non è la lingua che parla, è una lingua artificiale che lui ha imparato. Nel III secolo, infatti, in Palestina si parlava aramaico, quello che la signora vuole imparare senza impararsi l'alfabeto, ma non importa, tutto è possibile nella vita. In questi dunque, questo contesto, chiamiamolo positivo, fa sì che il brano, il brano del capitoli 38 e 39, venga letto in positivo, anche se i contenuti alle volte sono molto forti, sono sanguigni, sono bellicosi. Questo è un primo dato. Perché sappiamo che questi capitoli 38 e 39 sono del III secolo? Perché c'è un brano, lo leggiamo alla linea 46, in Mezechiele 38, 17 si dice, così dice il Signore Dio, non sei tu quelli di cui parlai nei tempi antichi? Per mezzo dei miei servi, i profeti di Israele, i quali in quei tempi e per molti anni profetizzarono che io ti avrei mandato contro di loro? Lasciamo perdere a chi si riferisce, ma notate che i profeti in questa frase appartengono a un'esperienza lontana del passato. Ora noi sappiamo che la profezia è finita nel IV secolo, cioè in epoca alessandrina. Con l'evento della civiltà ellenistica stranamente finisce la profezia in Israele. Ecco perché questo tizio, alla fine del IV secolo, inizi del III, dice che i profeti sono un'esperienza antica. Dice il passato, in passato. Questo è una delle spie per poter datare il testo. Di che cosa si parla in questi capitoli 38-39? Di uno strano re chiamato Gog. Il suo regno è composto con lo stesso nome, più un mem privativo, che potrebbe anche essere di origine. Quindi il re Albania che viene dall'Albania, come si chiama il suo regno? Dall'Albania. Gog, re, dimagog. È la stessa cosa, è un gioco di parole. Non esiste questo regno, non è mai esistito questo regno. Ma è la personificazione di tutte le forze del male. Infatti nel testo si dice che questo esercito di questo re è fatto da tutte le genti che abitano i quattro punti della terra, cioè da tutto l'universo. In Oriente dire i quattro punti vuol dire i quattro punti cardinali, che per l'ebreo era il deserto, il mare, la destra e la sinistra. Questi erano i quattro punti cardinali. Noi dopo traduciamo la sinistra e il nord, la destra e il sud, il deserto e l'ovest, il mare e l'est. Perché l'ebreo, quando stabiliva questi punti cardinali, questi erano i nomi, metteva le spalle al Mediterraneo. Guardava verso la Transgiordania, deserto, perciò il nord ce l'ha a sinistra e il sud ce l'ha a destra. Con questa dicitura l'ebreo intende dire i quattro punti cardinali, dunque tutto il mondo. Tutto il mondo conosciuto. E questo re ha raccolto tutte le forze di tutto il mondo conosciuto per invadere la Palestina di questi poveri disgraziati che erano appena ritornati dall'esilio. In quale situazione si trovavano questi ebrei appena ritornati dall'esilio? Nell'ottica di Ezechiele. erano senza armi? E di fatto sarà così. Erano tutti preoccupati di costruire il tempio e le loro case, rafforzare le mura che erano state distrutte dagli esseri precedenti e per di più dovevano lavorare i campi per potersi mantenere. Infatti, i libri di Esdra e di Neemia ci dicono che gli ebrei lavoravano con le armi al fianco. Avevano, mentre seminavano il frumento, avevano la spada al fianco. Mentre costruivano le mura, le case, il tempio, avevano la spada al fianco. Non è cambiato niente. Voi andate là e invece della spada trovate il mitra puntato in basso. Ma ce l'hanno sulle spalle, per cui voi salite sugli autobus e vedete questi giovani vestiti in blue jeans con le camicette e maniche corte e a tracolla hanno il fucile automatico, naturalmente con la canna in basso. Sono tutti riservisti che marciano così, perché possono essere chiamati da un momento all'altro in caserma e non hanno più di un'ora di tempo di tolleranza per presentarsi. Quindi viaggiano sempre con le armi e i riservisti. Come allora? Questo scontro, quando avverrà, dice il testo, alla fine dei giorni. È strano, perché Ezechiele dice quando tornerete costruirete e la costruzione prevede un futuro. D'altra parte, il capitolo 38-39 dice no, guardate che lì ci sarà uno scontro e sarà alla fine dei giorni. C'è qualcosa che non funziona. Non funziona per noi occidentali, perché per loro è perfettissimo. Ricordate che nella prima conversazione abbiamo detto guardate che per il mondo orientale il presente racchiude come uno scrigno il futuro. Per cui in certi piccoli episodi e in certi segmenti geografici precisi il futuro si fa presente. Quindi non è presente in tutti gli avvenimenti il futuro, ma in alcuni. E non in tutti i posti, ma in alcuni. Gesù dirà, guardate la distruzione di Gerusalemme, lì si fa presente la fine del mondo. Per cui Gesù incrocia la distruzione di Gerusalemme con la fine del mondo e la fa diventare un'unica profezie. In qualche maniera, Natan, nel secondo libro di Samuele, al capitolo settimo, fa la stessa cosa. Incrocia due profezie, quella della bait, tempio, e quella della bait, discendenza. Davide voleva fare un tempio, una bait, a Dio, e Natan prima gli dice di sì, poi Dio gli tira le orecchie ed è costretto a dire a Davide, no, guarda, il tempio lo costruirà un tuo discendente, ma non avertela male. Non sarai tu a costruire dunque la bait a Dio, ma un tuo discendente. In compenso, però, Dio costruisce una bait a te, una discendenza. Bait vuol dire questo e quello. E lì nasce la profezia messianica. Per cui, che cosa incrocia Natan, dice, guarda, ci sarà il Messie, però dovete aspettare tanto tempo. Prima che quello arrivi, però, questa mia profezia la riterrete valida perché il tempio sorgerà. Non sarà Davide a costruirlo, sarà un suo discendente, quindi voi che ascoltate questa profezia, probabilmente sarete testimoni oculari della costruzione del tempio. Quando vedrete il tempio costruito, allora saprete che la mia profezia è vera e avrete fede nell'attendere il Messia, perché il Messia fa parte della stessa profezia del tempio. Quindi il tempio diventa segno, garanzia, dell'arrivo del Messia. La fine di Gerusalemme, Gesù la profetizza, dicendo, osservatela bene, perché lì voi vedrete un piccolo segmento della fine del mondo. Quando è avvenuta la distruzione di Gerusalemme nel settanta, nell'estate del settanta, per i cristiani è stata una cosa orribile, perché hanno cominciato a dire accidenti. Allora la fine del mondo è vera, noi l'abbiamo vista. Capite che è un assurdo per noi occidentali ragionare così, però per loro era di una logica perfetta, data la premessa che il futuro può essere già presente in alcuni avvenimenti e in alcuni luoghi. Vi è chiaro il concetto? Allora, di che cosa stanno parlando questi due capitoli, 38 e 39? Con buona probabilità, sta parlando delle truppe di Alessandro Magno. Stanno arrivando dal nord, Alessandro Magno parte dalla Macedonia, invade la Turchia e dalla Turchia passa all'odierno Iraq e poi andrà in Iran, poi andrà in Pakistan e poi andrà in India. Quando l'esercito macedone, che si trova nella zona kurda tra la Turchia e l'odierno Iraq, sta dunque per decidere di oltrepassare i confini e scendere nella pianura del Tigri dell'Eufrate, una parte dell'esercito guidata dal generale Parmenione, scendono giù nell'odierno Siria, Libano, Palestina, Egitto. È una mossa fulminea e devastante. Voi pensate che l'esercito macedone, questo frammento dell'esercito macedone, in sei mesi, sei, distrugge l'impero seleucida, prende il Libano, distrugge il regno, la provincia, chiamiamola così, di Palestina e conquista l'Egypto. Sei mesi, una cosa peggio della guerra lampo di Hitler. Bene. In questo avvenimento, questo sapiente anonimo, vede la rappresentazione di ciò che accadrà alla fine dei giorni. Come Gesù vede nella distruzione di Gerusalemme ciò che accadrà alla fine dei giorni. Solo che il nostro parla di un avvenimento già successo. Capitolo 38 e 39 presuppongono che l'invasione di Parmenione sia già avvenuta. E con questa immagine lui costruisce questo futuro dicendo che sul finire dei giorni capiterà una cosa di questo genere. L'esercito macedone viene in qualche maniera a diventare simbolo di tutte queste potenze del male che alla fine dei tempi si scateneranno. Popolo ebraico come viene definito? Piccolo e indifeso, come siamo noi. Eppure dice il testo a un certo momento queste forze umanamente soverchianti che potrebbero distruggere questo piccolo popolo e indifeso invece verranno sconfitte. Perché interverrà Dio, il quale senza le armi degli uomini, ma adoperando la sua forza, cioè quella forza che è presente nella natura, lui con questa forza si opporrà alla prepotenza degli uomini. Questo strano re verrà sconfitto e il nostro autore vede una specie di enorme campo di battaglia pieno di cadaveri e Dio che dice gli animali buon appetito. È una descrizione orripilante di questa specie di macelleria umana dove gli animali faranno un banchetto con le carni dei morti. Non è bello leggersene. Non è bello leggersene. La conclusione è questa, che Dio manifesta la sua potenza lì dove si manifesta la debolezza dell'uomo. E dunque l'uomo non deve aver paura della propria debolezza. Non deve essere angosciato perché è fragile, perché è peccatore, perché è limitato. Perché lì dove si esprime questa dimensione dell'uomo si esprime anche la grandezza di Dio. Se voi avete un po' di familiarità con il testo di Paolo, Paolo dirà proprio la stessa cosa. Che Dio manifesta proprio la sua grazia lì dove si manifesta il peccato. Dio manifesta la sua giustizia lì dove l'uomo ha bisogno di redenzione, non dove l'uomo è santo. E guardate che questa è la logica dei sacramenti. Noi invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto esattamente il contrario. Chi fa esperienza di Dio è il cristiano perfetto. Allora chi senza peccato va a fare la comunione. I santi vanno in estasi. E ci dimentichiamo che il cristianesimo non è fondato su questa logica. I sacramenti sono fatti proprio per le persone fragili, per le persone deboli, per chi ha bisogno di essere aiutato. Per chi dice non ce la faccio e allora interviene Dio. Perché i sacramenti sono grazie, non sono merito. Allora io faccio il bravo bambino, merito di accostarmi presso Dio. No, i sacramenti invece sono per quelli che dicono senti, io sono un povero Cristo. O mi dai una mano, o io non ce la faccio ad essere persona corretta, ad essere persona che ha dei rapporti positivi con gli altri e con se stesso. Capite allora che dentro a questa logica certe forme, sia moralistiche, sia giuridiche che la Chiesa oggi adopera, non sono conformi a quello che è invece lo spirito del cristianesimo.